7.000 gazebo aperti fino alle 20, 35.000 volontari e ostacoli all'orizzonte. È un obiettivo ricostruire un partito diviso da lotte intestine e sotto shock dopo il tracollo delle ultime elezioni politiche. Saranno noti a sera i risultati delle primarie del Partito Democratico. Secondo alcune proiezioni il partito potrebbe arrivare a un milione e mezzo di votanti. File ci sono stati ai gazebo nelle città, un calo nell'affluenza si registra invece a metà giornata in uno dei bacini storici, l'Emilia-Romagna. La sfida è a tre, tra Nicola Zingaretti, due volte presidente della Regione Lazio, ex DS e grande favorito, tra Maurizio Martina, segretario reggente, militanza di vecchia data, anche lui nella sinistra, e Roberto Giacchetti, deputato renziano, ex radicale. Convitato di Pietra Matteo Renzi e la sua stagione politica, con quali numeri verrà archiviata e cosa faranno dopo i suoi, è il più grande interrogativo.